Sono alle 7 di mattina e sono già sul fiume. È un posto bellissimo dove ho sempre preso dei grandissimi barbi. È la prima volta che vengo quest'anno e spero che bocchino subito. Le speranze bie sono veramente notevoli perché credetevi ho sempre preso molto bene. Vediamo un po' come va. Vediamo un po' come va. Vediamo un po' come va. Sono quasi due ore che non vedo una tocca finalmente d'arrivato. Vediamo un po' come va. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate che bel barbo, veramente molto bello. Posso andare a lavorare. Alla prossima.